Grazie a tutti Barbur che va a ricaricarsi della rimessa Va a servire Reggie Hamilton Su di lui la marcatura di Bobby Brown Proe la ricezione per Mack Da questa cavaliero Barbur prova a farsi largo Lo scarico per Crosariol da tre punti La tripla con spazio e ritmo ma sul ferro di Lamo Mack E allora può ripartire la Montepaschi E Bobby Brown già pronto a prendersi il pick and roll di Benjaminez Prova a servire nel cuore dell'area il taglio di Daniel Hackett Non arriva a destinazione il tentativo In questa pre-season per Bobby Brown La Montemag si butta dentro Bella difesa da parte della Montepaschi Con Cangur che va a servire ancora Brown Da tre punti con spazio e ritmo Due triple per Mr. Bobby Brown E la parziale di 6 a 0 Che torna a spaccare letteralmente in due la partita Montepaschi avanti 48 a 31 8 minuti e 30 Da giocare nel terzo quarto Daniele Cavaliero va a servire la Montmec Vorrebbe ricevere il pallone Hamilton Lo fa soltanto in questo momento C'è un misunderstanding nella difesa della Montepaschi Reggie Hamilton punisce Il ritardo Barbur che attacca lungo la linea di fondo Questa volta si protegge molto bene 36esimo punto per Pesaro 48 sono quelli messi a segno dalla Montepaschi 7 minuti e 35 da giocare nel terzo periodo di gioco Con Cristian Cangur Va a servire David Moss nuovamente per Cangur Con spazio da tre punti Cristian Cangur L'abbiamo visto spesso anche in maglia Varesina colpire da oltre l'arco Pesaro di Esiena Deve forzare un tiro da tre punti Cavaliero che non riesce a mangiare Per andare avversario David Moss spinge Serve Bobby Brown Cangur ribaltamento per Moss Moss centro dell'area Sbaglia il balzo lungo catturato Da Cavaliero Poi Bobby Brown Un furto Che non lo scarico L'extra pass per il tiro da tre punti di Reggie Hamilton 51 a 39 6 minuti e 20 Brown va a servire Cangur Che gli restituisce il pallone Arriva la stoppata di Crosariol Reggie Hamilton lo scarico per il tiro da tre punti Ancora a bersaglio Per la VL Antoine Barbour L'autore della tripla 51 a 42 6 minuti e 10 secondi Alla terza sirena di questo Remessa per Siena Con David Moss Che va A consegnare il pallone Nelle sapienti mani Di Bobby Brown Sire di blocchi A liberare Daniel Hackett Che si sposta Da destra a sinistra Nell'attacco di Siena Va a servire Con una bellissima palla in angolo David Moss Bella esecuzione questa E di Daniel Hackett E di David Moss Da giocare nel terzo quarto Daniele Cavaliero Si arresta da tre punti Questi sono i suoi tiri E infatti Non sbaglia Daniele Cavaliero Che in queste situazioni È davvero molto bravo A raccogliere e tirare Dal palleggio Restituisce immediatamente All'ammittente La tripla di Moss Cangur vorrebbe Eze Vicino a Canestro Gli viene sporcato il possesso E ancora però Big Ben A mettere le due mani Sulla sfera Bobby Brown Deve inventare qualcosa Sette secondi Lo scarico incredibile Per Eze Che purtroppo Non riesce A concretizzare La bellissima giocata Del compagno Cavaliero Ancora da tre punti La spara La sbaglia Palone che do Amoroso Con la tripla Un po' forzata Però ha ragione lui Perché la mette Dentro Valerio Amoroso E riporta La VL Addirittura a meno 6 54 a 48 Tripla di Hachet Sul primo ferro Rimbalzo di Barbour 4 minuti e 40 Da giocare nel terzo quarto Sanichize Che a sua volta Prova ad attaccare Il centro dell'area Lo scarico per Eze Che si protegge bene E trova l'appoggio Al tabellone E il 56esimo punto Di Siena Contro i 48 Mandati a Versaglio Dalla VL Amoroso Amoroso Ribaltamento Va a servire Cavaliero Ribaltamento Per Il palleggio Vivo Di Barbour Si butta dentro Barbour Deraglia un po' In questo caso Poi in qualche modo Il ferro Accoglie La sua Conclusione In maniera davvero Fortunosa 58 a 53 2.50 Da giocare Bobby Brown Resta contro di lui Valerio Amoroso Finisce per le terre Benjaminezze Si rialza Bobby Brown Penetra Scarica Per Moss Da tre punti Il tiro Viene sputato Dalla ferro Presente al rimbalzo Benjaminezze Poi in qualche modo Riesce a recuperare Il pallone La VL Marigny Che scarica Per Barbour Udite udite La VL A meno 3 59 a 56 40 secondi Alla termine Dell'incontro Jenning Deve forzare Costruire qualcosa Va a perdere Un altro pallone La Montepaschi Lo recupera Cavaliero Prova a spingere Marigny Che viene comunque Ben contenuto Da Aleksandar Razic Marigny attacca Lo step back Si crea lo spazio La separazione Per la tripla Che va sul ferro Poteva valere Il pareggio Per Pesaro Non va a bersaglio Allora gli ultimi 10 secondi Per il possesso Che manderà le due squadre All'ultimo mini riposo Aleksandar Razic In palleggio Arriva il blocco Di Eze Erasice Pasticce Non poco Termina il Non poco No poco Non c'è Non c'è Non c'è No c'è